Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10, pagina della cronaca nera in apertura del telegiornale. Vi riferiamo dell'omicidio commesso questa mattina in territorio di Riesi. Crivellato di colpi un pluripregiudicato di 57 anni, il gravissimo fatto di sangue si è verificato in aperta campagna. Indagini febbrili da parte dei carabinieri. Vediamo. Si indaga a tutto campo per far luce sull'omicidio commesso questa mattina nelle campagne di Riesi. Ucciso a colpi di arma da fuoco il pluripregiudicato Francesco Tabì, 57 anni. È stata una telefonata anonima giunta alla centrale dei carabinieri intorno alle 9 ad avvisare che si erano uditi degli spari. Giunti sul posto in Contradamaggio, una zona impervia dell'agro Riesino, i militari hanno rinvenuto il cadavere dell'uomo, Crivellato di colpi. Giaceva nei pressi di un trattore, a pochi passi da un casolare. In zona è giunto anche il magistrato di turno e sono state avviate minuziose ricerche di polizia scientifica. Il luogo del gravissimo fatto di sangue è attualmente setacciato in lungo e in largo. Non sono stati trovati al momento bossoli. Si scava nel passato della vittima che aveva avuto numerosi contrasti familiari. Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è legato alla sfera personale. Francesco D'Abbì era rimasto coinvolto nel blitz antimafia Odessa del 2005 con 42 arresti. Era stato condannato a 9 anni per associazione mafiosa. Lo scorso 19 marzo era stato ammanettato dai carabinieri per lesioni, danneggiamento, minaccia aggravata ed appropriazione indebita. In quell'anno erano state numerose le segnalazioni da parte dei familiari dell'uomo, peraltro vigilato speciale, che denunciavano minacce di morte. Furono i carabinieri, considerata la pericolosità del soggetto, a chiedere al magistrato di sorveglianza di Caltanissetta la misura cautelare al fine di evitare il ripetersi dei reati. D'Abbì era stato arrestato e rinchiuso nella casa circondariale di Trapani, in attesa di scontare la pena di un anno presso la casa di lavoro di Famignana. Questa mattina, nelle campagne di Riesi, ha trovato la morte. Attività anticrimine di polizia giudiziaria del commissariato di Gera negli ultimi giorni in città sono state 551 le persone controllate, 293 i veicoli ispezionati. Verificate le posizioni di 41 soggetti e domiciliari, di 13 sorvegliati speciali di pubblica sicurezza e di 4 in libertà vigilata. Tre le denunce, un 26enne dovrà rispondere di inosservanza degli obblighi imposti dall'autorità giudiziaria, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, un ragazzo di 23 anni accusato di possesso illegale di un bastone, rinvenuto nella sua auto e un pensionato di 61 anni è stato segnalato per lesioni personali. Adesso occupiamoci della conferenza stampa che si è svolta oggi al comune di Gela, Palazzo Guttilla, sarà la sede del coordinamento della federazione dell'associazione anti-racket e anti-usura della Sicilia, lo ha stabilito l'assemblea ordinaria del coordinamento regionale Fai. C'eravamo anche noi, vediamo. Dopo 11 anni di attività, l'associazione anti-racket e anti-usura Gaetano Giordano di Gela, preseduta da Renzo Caponetti, diventa sede del coordinamento della federazione dell'associazione anti-racket e anti-usura della Sicilia. Questa mattina l'ufficializzazione della notizia a Palazzo di Città. Devo dire che questo ci gratifica, significa che abbiamo operato bene, per non farlo in altre città grosse come Palermo, come Messina, come Agrigento, come Ragusa, significa che la città di Gela ha operato bene in sinergia con l'amministrazione comunale e quindi questi sono i risultati. Se dovesse guardare al passato, c'è qualcosa che non farebbe o qualcos'altro che non ha fatto e che invece oggi penserebbe? Guardate, certe volte me la faccio io stesso a questo tipo di domanda, perché io, voi lo sapete, ho perso la mia libertà da dieci anni a questa parte, però lo rifarei di nuovo, senza pensarci su due volte, perché ho visto che con la collaborazione nostra, di tutti i cittadini, si può andare sempre avanti. E i prossimi dieci anni invece come li vede? E voi calcolate che io ho la mia età. Nei giorni, certo, io vedo sempre il rosio e vedo sempre il bicchiere mezzo pieno. Condivida con noi il momento peggiore e il momento migliore di questi undici anni. Il momento peggiore purtroppo, voi lo sapete, è stato quando ho avuto qualche attentato e quindi sono stato ricoverato per questo. Ma il periodo più bello invece sono tutte le gratificazioni che sono arrivate dal Ministero dell'Interno, dalla FAI, quelle sono cose veramente che fanno dimenticare le cose brutte. Noi fin dall'anno scorso abbiamo collaborato proprio per dare una sede degna e per poter avere un luogo di riferimento. Invece è molto gratificante il fatto che sia stata scelta Gela come sede regionale perché certifica il lavoro svolto, ma ancora più importante è che certifica dove siamo arrivati. Un territorio dove la legalità è presente e dove si può venire a investire con la garanzia che c'è un'associazione come quella di Gretano Giordano che è attenta e controlla il territorio. Quindi questa scelta non solo certifica che il nostro territorio è un territorio dove determinate paure sono inutili che ci fossero, ma soprattutto ci consente di poter vedere un sviluppo più rosso di tutta la città di Gela. Era presente alla conferenza stampa questa mattina anche Franca, evangelista, vedova del commerciante gelese Gretano Giordano, assassinato il 10 novembre del 1992 per essersi ribellato al racket delle istorsioni. Sentiamo. Come è cambiato il suo stato d'animo negli anni con la lenta ma costante affermazione dello Stato anche nel nostro territorio, fino ad ottenere addirittura un'associazione anti-racket dedicata a suo marito e addirittura a livello regionale? Il mio stato d'animo sicuramente è cambiato in positivo, a me ero già positiva a Monte, ero certa che questa città non avesse tutti i peccati che si declamavano ed ero certa che la società civile si sarebbe impegnata perché tutto quello che è successo non avvenisse più. I dati mi hanno dato ragione, è un pasticcio di parole ma è una realtà. 11 anni di attività, si è partiti veramente dal periodo più buio della nostra città, invece lei come guarda il futuro oggi dopo 11 anni dell'attività dell'associazione? In maniera molto positiva, siamo diventati un esempio, tant'è vero che abbiamo la sede regionale nella nostra sede. È stato un bel riconoscimento, un gran riconoscimento ma il lavoro c'è stato, il lavoro è stato fatto, siamo diventati affidabili, siamo un esempio e va bene così. Se avesse la possibilità di lasciare un messaggio ai giovani di questa città, quelli che negli anni 80 e 90 non c'erano, che cosa direbbe? Abbiate dignità nella vita, non si sbaglia, non si cede, non si porge il fianco, non si cerca il compromesso e si va avanti a testa alta. E a quelli che c'erano? A quelli che c'erano, oddio, se hanno sbagliato e hanno pagato, benvenga per loro uno spazio nella società. Se ancora non credono che ci possa essere una società di persone per bene, che si ravvedano perché il mondo cambia, grazie a Dio il mondo cambia. E' Gaetano in Grasciotta, 43 anni, attuale responsabile consulente finanziario Banca Nazionale del Lavoro, il nuovo consulente provinciale dell'Associazione Casa Artigiani del Golfo di Gela, che è presieduta da Antonio Rubio. Lo ha nominato la direzione provinciale a seguito delle dimissioni per motivi personali di Anna Maria Mungiovì, che ha occupato l'importante incarico. A partire dal 2011, in Grasciotta vanta un lungo curriculum nell'ambito del sistema finanziario e servizi di consulenza alle imprese. E' prevista per domani al Teatro Antidoto di Macchitella a Gela la 38esima giornata del donatore promossa dalla sezione locale dell'ADAS, presieduta da Enzo Emanuello, appuntamento alle 16.30 con la premiazione dei donatori benemeriti e sorteggio a premi. La manifestazione sarà presentata da Monica Bevelacqua e da Giacomo Giurato. Interverranno il vescovo della diocesi di Piazza Armerina, Monsignor Rosario Gisana, il sindaco di Gela, Domenico Messinese, il direttore sanitario dell'ospedale Vittorio Emanuele, Luciano Fiorella e Salvatore Di Caro, presidente della LATE, Libera Associazione Tala, Semici e Mopatici. La serata sarà chiusa dal comico palermitano Antonio Pandolfo con il suo spettacolo Pandemonio. Adesso parliamo della nascita del nuovo soggetto politico, sviluppo democratico, un progetto comune, elaborato assieme a tanti cittadini gelesi che il sindaco Domenico Messinese sta portando avanti. Noi questa mattina ne abbiamo parlato proprio con il primo cittadino. Sentiamo. Sindaco, viene presentato un nuovo movimento o partito politico a Gela, di cui lei fa parte. La domanda è questa, si tratta di un movimento o di un partito e chi è il leader? Si tratta di un soggetto politico, un soggetto politico che sta nascendo, si apre la fase costituente, la fase costituente che deve dar luogo a un soggetto che finalmente pensa a progetti, pensa ai bisogni e non a litigi o a posizioni. Quindi un soggetto che vedrà la sua forma completa alla fine della fase costituente, che è prevista per circa un semestre, dove alla fine uscirà fuori chi è il leader. Ma il leader in realtà credo che sia ognuno di noi, nel suo piccolo, ma soprattutto quello che riuscirà a dare, quella impronta incisiva che serve a dare risposta al territorio. Un nuovo figura politica, un nuovo soggetto politico che vuole andare sulle azioni e uscire dalla demagogia o dalle falsetà che negli ultimi tempi in vario modo si sono viste. La sua esperienza politica è nata al suo esordio con l'immediata querelle con Grillo, che poi era il leader del movimento, grazie al quale lei appunto ha prodato a Palazzo di Città come primo cittadino. I principi si ispirano al Movimento 5 Stelle o a qualche altro partito di destra o di sinistra? No, qua i bisogni non sono di destra o di sinistra, i bisogni sono delle persone e io continuo ad operare con la stessa intensità di quei valori che sono di ognuno di noi. I valori delle persone non appartengono a partite, associazioni o movimenti, ma appartengono alla singola individualità, come anche la sensibilità credo che sia ognuno di noi. La cosa importante invece è trovare la possibilità di aggregare per portare avanti quei progetti condivisi. Io ricordo che il programma che è stato presentato noi lo stiamo portando avanti perché è un programma per poter dare quelle risposte ai cittadini, con difficoltà, con molta tenacia, però quello che è importante è avere chiari quali sono gli obiettivi e progetti. E quindi noi stiamo spostando proprio il focus di questo nuovo soggetto politico sulle necessità. e fino a qualche anno fa, quando c'erano forse le classi, quando c'erano i vari ceti medi, parlare di partiti forse veniva più semplice. Ormai è molto più orizzontale e i bisogni sono uguali per tutti, quindi le leggi servono per tutti, quindi è l'attenzione alla persona che credo sia la missione più importante. Sarà più semplice dialogare col Partito Democratico o con Forza Italia? No, noi dialoghiamo sempre con tutti e credo che si avrà un nuovo modo di fare politica. Io fino adesso ho sempre sentito che ci deve essere l'opposizione. Noi invece crediamo che bisogna fare la proposizione perché ogni singolo eletto deve portare avanti delle proposte per migliorare il territorio, non invece impedire che si realizzano delle attività solo e esclusivamente perché è di un segno diverso. Il mondo non è fatto da simboli e segni, ma è fatto da individui che hanno dei bisogni. È attivo in città lo sportello medico per i più bisognosi. È aperto nei giorni di lunedì e venerdì dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 19. L'iniziativa porta la firma del Movimento Rosa per la rinascita di Gela. Collaborano ginecologi, rianimatori anestesisti, pediatri, neurologi e odontoiatri. Per informazioni c'è un numero di telefono 346-9349-271 oppure la stessa sede in via Tucidide al numero 19. Il Comitato Femminile della Pubblica Assistenza Procivis Protezione Civile di Gela in occasione delle prossime festività natalizie organizza una raccolta di generi alimentari e prodotti da destinare alle famiglie indigenti. La raccolta di cibi non deperibili rivolta a quanti vorranno aderire all'iniziativa avviene presso la sede della Procivis in via Ossidiana al numero 23 fino al 22 dicembre prossimo dalle 15 e 30 alle 20 e 30. La distribuzione alimentare avverrà il 23 dicembre subito dopo il consueto precetto natalizio dei volontari della pubblica assistenza Procivis previsto per le 19. Enedicole, il Corriere di Gela, settimanale indipendente di attualità, politica, cultura e sport a diffusione comprensoriale. Questi gli argomenti più importanti del numero e contraccolpi del voto referendario. La valanga di no vista dai politici gelesi, commenti raccolti da Nello Lombardo. Giulio Cordaro getta uno sguardo su quel che può succedere a livello nazionale con i grillini che cercano di trarne il maggior profitto. L'ex assessore Eugenio Catania si racconta al Corriere e dice che questa classe politica non rappresenta la vera Gela. Poi c'è reso conto dell'ultima seduta consigliare dedicata al Question Time e l'Adas che celebra la 38esima giornata del donatore. Il paginone centrale è tutto per questa ricorrenza. Infine lo sport con le finestre sugli impegni calcistici di Gela e Terranova. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Le associazioni nazionali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia di Gela organizzano per giovedì 15 dicembre prossimo una celebrazione eucaristica in occasione del precetto natalizio che si terrà presso la chiesa di Sant'Agostino. Con inizio alle ore 18 la messa sarà ufficiata dal Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina, Monsignor Rosario Gisana, la presenza di autorità civili e militari, provinciali e locali, forze di polizia e associazioni d'arma, prevista anche la presenza del Coro Perfetta Letizia San Giovanni. È prevista per giovedì 15 dicembre alle 17 nell'auditorium del liceo classico Eschilo di Gela diretto da Gioacchino Pellitteri la presentazione del libro Ludibrio Sibia Bere di Federico Efer l'iniziativa è dell'Uni3 preseduta da Angela Scaglione. Introdurrà i lavori Liborio Mingoya, docente responsabile culturale Unitre. Sensibilizzare la cittadinanza nei confronti della diversità, in particolare alla disabilità visiva, promuovendo al contempo la cultura dell'accoglienza e del rispetto dell'altro. Con questo intento la sezione nissena della WICI, l'Unione Italiana Cecchie Tipo Vedenti e il Rotaract Club di Caltanissetta hanno voluto promuovere in occasione della giornata internazionale della disabilità celebrata lo scorso 3 dicembre un incontro volta ad approfondire la tematica con particolare riferimento all'inclusione degli allunni disabili nelle scuole e i percorsi di integrazione nella disabilità visiva. Inaugurato per l'occasione anche il presepe a buio. Oggi facciamo un dibattito sulle barriere che ci sono ancora oggi per quanto riguarda i bambini che affrontano giornalmente nelle scuole e che noi cerchiamo di arrivare e lì dare una mano dove serve. Poi con il Rotaract abbiamo un nostro volontario del servizio civile che ha fatto questo percorso, è diventato presidente dei Rotaract Andrea Gucciardi e è venuta l'idea di creare delle mappe turistiche per non vedenti e poi fare il presepe a buio. Quindi questo presepe a buio si può venire a visitare tutti i giorni dalle 9 fino alle 13 e il pomeriggio dalle 15 fino alle 19. La normativa scolastica è già ampiamente orientata a tutelare i disabili e quindi l'ufficio scolastico provinciale, l'ex provveditorato, non può evidentemente esimersi, anzi deve spincele in questa direzione, cooperando con tutti gli attori del territorio, tra cui l'unione di cui siamo ospiti, sicuramente il Rotaract, il nostro GLIP che è molto operativo per suggerire interventi a livello territoriale e penso che sia fondamentale la riunione di oggi che vuole far prendere coscienza, secondo me, ai normodotati che il mondo, visto dal punto di vista del disabile, è evidentemente un mondo pieno di ostacoli da superare. Edizione 2016 di 4 Amici al Bar, rassegna d'arte e dintorni, progetto di aggregazione culturale che permette a tutti gli artisti di confrontarsi. L'iniziativa ideata da Croce a Tardi riparte domani alle 17 nei locali del Palazzo della Cultura, Pignetelli e Roviano. Adesso parliamo di calcio. Domani, atteso derby in Serie D tra Sicula, Leonzio e Gela. I Biancazzurri vogliono vincere per allungare la striscia positiva. Nelle ultime cinque giornate i ragazzi di Pietro Infantino hanno conquistato quattro vittorie e un pareggio. Non ci sarà l'attaccante Nassi, squalificato. Sentiamo. Da un derby all'altro. Dopo quello disputato domenica scorsa al Presti con la San Cataldese, finito 0-0, il Gela domani sarà chiamato ad una dura trasferta in quel di Lentini contro la Sicula, Leonzio. Una gara che promette spettacolo. Le due squadre hanno ambizioni importanti in questo campionato. I Bianconeri però si presenteranno all'appuntamento di domani, reduci dalla sconfitta subita nel turno infrasettimanale in quella di San Cataldo. Il Gela invece ha riposato. La partita di calendario con la Turris è stata rinviata a giovedì 22 dicembre prossimo. Il tecnico Pietro Infantino. È una squadra importante per questa categoria. Ha giocatori che questo torneo l'hanno vinto tantissime volte. È una squadra che ha cambiato allenatore. Ho visto una squadra molto aggressiva, molto veloce, però noi lavoriamo su noi stessi. Come ho detto con la Cavese, lo dico adesso con la Leonzio, io credo che noi abbiamo tutte le qualità per tamponarli e metterli in grossissime difficoltà. Domani a Lentini non ci sarà l'attaccante Maurizio Nassi squalificato dal giudice sportivo per un turno per somma di ammunizioni. Da verificare le condizioni degli infortunati Bonaffini e Gambuzza. domani mattina faremo l'ultima chiacchierata e poi si farà la formazione. Ma credo che tutti i giocatori si sono detti e hanno dato grandissima disponibilità a partecipare a questa gara. Però noi dobbiamo essere molto intelligenti perché il campionato non finisce a Lentini. Ci sono ancora tantissime partite e non possiamo rischiare di perdere giocatori così importanti per la Rosa. Divertiamoci e facciamo divertire è il motto in casa Gela. Il gioco è un divertimento e se ti diverti, diverti gli altri. Nel senso che scendi in campo per essere protagonista per avere il pallino del gioco e per essere molto ma molto propositivo per offendere gli avversari. Solo così ti puoi divertire puoi essere protagonista e puoi divertire gli altri. Ma anche un altro slogan che ci tengo tantissimo è quello di stupirci, quello di lavorare giorno dopo giorno per migliorare i nostri limiti, i nostri difetti, per lavorare e per stupirci conoscendo anche il compagno, anche in profondità, per creare sempre questa forza che è enorme, nel senso che il gruppo è una forza micidiale per il proseguo del campionato. Nelle ultime trasferte due vittorie, Roccella e Cava, non c'è due senza tre. Noi abbiamo un'identità di gioco che abbiamo trovato questo sistema che è molto propositivo, molto offensivo, molto aggressivo e non vogliamo cambiare di una virgola questo atteggiamento. Il Gela nelle ultime ore ha tesserato il centrocampista Gabriele Segreto, 18 anni, proveniente dal Due Torri. Il giocatore, già a disposizione del tecnico Pietro Infantino, ceduto a titolo temporaneo, il diciottenne difensore centrale Matteo Runza al Real Avola. Nel campionato di eccellenza, impegno casalingo per il Terranova, la squadra affidata al neotecnico Totò Brucculeri riceverà al presti la capolista Paceco. Nelle ultime ore, il club giallorosso ha tesserato il centrocampista Carlo Calvaruso, proveniente dalla Nissa. Adesso c'è la pagina dello spettacolo. Al teatro Comunale Eschilogio, alle 21.15 e domani alle 17.15 sarà portata in scena la commedia Nataricca Massauro Contento di Nino Martoglio. Protagonista sarà l'attore Tuccio Musumeci. Il botteghino è aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20. Con lo spettacolo è tutto anche per questa edizione. del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito fin qui. A tutti voi un buon fine settimana. Grazie per averci seguito fin qui. Grazie a tutti